a cui Angelo Mazzotti ha aggiunto quel brano in cui diceva 12.000 parole al secondo, si chiama Vocalise, è un modo di utilizzare la voce nei brani jazz di sua composizione e poi abbiamo fatto con il meraviglioso solo di Andrea Terrinoni Allora, adesso facciamo riposare i musicisti per un paio di pezzi e cantiamo solo noi